Con Filmora 11 vai oltre ogni limite nella creazione dei tuoi progetti video. Con le nuovissime funzioni Boris FX e New Blue FX puoi correggere ed arricchire i tuoi filmati in mille modi diversi. E con lo speed ramping puoi modulare la velocità audio delle tue clip in maniera semplice e divertente. Ciao Rassime, oggi gioca la Juventus. Da oggi puoi anche sincronizzare più elementi con un solo clic, in automatico. Il tutto senza perderti nulla del fantastico catalogo di Filmora con effetti, transizioni, oggetti e tutto quello che ti serve per dare massimo sfogo alla tua creatività. E col codice sconto sitavsim puoi sbloccare tutte le funzioni. Scarica subito Filmora11 dal primo link in descrizione e comincia a creare. Ciao da Apsim. Lite Dybala Allegri in allenamento. Questo scrive oggi, 19 marzo, vigilia di Juventus Salernitana, Gazzetta dello Sport con Luca Bianchini, che aveva anticipato la notizia su Twitter nella notte. Che cosa è successo? E facciamo le dovute, dovute, necessarie riflessioni. La notizia è quella di una lite, ma non propriamente, o meglio Allegri, che si arrabbia con Dybala per una richiesta presentata da Dybala, non per conto proprio e non in nome proprio, ma come capitano, vicecapitano, a nome della squadra. Perché dovrebbe dormire stanotte alla Continassa, al J-Hotel, la Juventus, quindi dovrebbe essere sostanzialmente in ritiro. La partita è domani alle 15, quindi non ci sarebbe nulla di strano in realtà nel restare a dormire, perché la partita appunto è nel pomeriggio, non è la sera. E questo avrebbe generato un po' di malcontento in alcuni giocatori, considerando anche poi le partenze per le nazionali, quindi diciamo poco tempo che resta con le famiglie per quelli che poi devono andare via. Quindi avrebbero alcuni giocatori, non si sa chi, avrebbero voluto, avrebbero preferito una notte in più con le proprie famiglie a casa prima di partire, rompete le righe per andare due settimane o dieci giorni, quello che sia, con le nazionali. Una richiesta quindi dei giocatori, diciamo della squadra. Ora, non è che dibala a quanto si legge nel racconto, e quindi è quello che prendiamo per buono, per evidente, perché se ci fosse stato qualcos'altro, sarebbe stato scritto qualcos'altro, e soprattutto se fosse stata una situazione più grave, sarebbe stata scritta, immagino. Non avrebbero addolcito la situazione, non avrebbero indorato la pillola, non avrebbero evitato di scrivere alcuni dettagli. Quindi dobbiamo pensare che tutti i dettagli che sono venuti fuori sono la parte più grave della situazione. E quindi non solo dibala va da Allegri per questa richiesta di fare un programma diverso di allenamenti oggi, quindi l'oggetto della discussione è il programma di allenamento di oggi, sabato 19 marzo, in vista di vento salernitana, ma anche quadrado. Cioè vanno dibala e quadrado, come capitani, come vicecapitani, entrambi a rappresentare un punto di vista, una necessità, un'esigenza di qualche giocatore nella rosa. Si parla soprattutto dei sudamericani, ripeto, quelli che poi devono fare i viaggi più lunghi. Non ci sono Bonucci e Chiellini perché sono infortunati e salteranno anche Juventus salernitana. Sebbene Chiellini fosse stato convocato per il Villareal fosse in panchina, quindi potrebbe andare in panchina, però sapete com'è? Ci sono le partite dell'Italia, quindi bisogna preservarsi. Sì, non è che si può spendere energie per la Juve. Poi la Juve viene eliminata dalla Champions League, chi se ne frega, la colpa è di Dybala. Se la Juve viene eliminata dalla Champions League, la colpa è di Dybala, che quando si fanno le partite decisive non c'è mai. Poi magari non ci sono talvolta anche Chiellini e Bonucci, però non importa. E Dybala non c'è e non va in nazionale, non perché non è stato convocato da Scaloni, ma perché ha chiesto di non essere convocato, ha chiesto di non essere convocato per ritrovare la miglior forma fisica, però questo non interessa a nessuno e non interessa a nessuno che Chiellini e Bonucci invece in nazionale da rotti ci vanno. Rotti un mese, due mesi senza giocare mai con la Juve, però in nazionale ci vanno e di questo poi parleremo. Quindi Chiellini e Bonucci non vanno loro a rappresentare questa esigenza della squadra, ci vanno Quadrado e Dybala e nasce la litio, comunque Allegri si nervosisce e parte il cuoco e tu, cuoco e tu Paolo Filimi, perché si parte nel dire anche nell'articolo una cosa giusta, che se c'è qualcuno tra i vertici della Juventus, ieri arriva bene, ha detto che ci sono quattro teste che decidono all'unisono alla Juve, che sono lui, Nedved, Chirubini e Allegri, se c'è uno che vuol bene a Dybala e che sta tra virgolette dalla parte di Dybala, quello è proprio Allegri. E quindi Allegri si è sentito tradito da un Dybala che è andato a rappresentare un'esigenza della squadra o di alcuni giocatori in funzione di capitano o vicecapitano. Questo è quello che leggiamo, non sto inventando nulla, non sto romanzando nulla, non sto interpretando nulla. È quello che c'è scritto. E quindi Allegri avrebbe detto, proprio tu mi vieni a fare questa richiesta, proprio da te viene questa richiesta. Punto. Finisce lì. Quindi non si sa effettivamente poi che cosa è stato deciso da Allegri, quali erano altri oggetti della questione, che cos'altro è stato detto, se si è parlato anche delle sessioni di allenamento, di come farle, di come non farle. Ora, dobbiamo dire un po' di cose, eh? Dobbiamo, possiamo, dobbiamo dire un po' di cose. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che questa notizia chiaramente è pro-società. Non è assolutamente possibile, non è assolutamente pensabile che questa notizia sia venuta fuori da parte di Dybala. Perché se fosse venuta fuori da parte di Dybala, del suo entourage, sarebbe venuta fuori in maniera diversa. Cioè, avremmo saputo qualcosa in più delle rimostranze di Dybala. Invece noi non sappiamo nulla, sappiamo solo perché Dybala e Quadrado, e Quadrado, sono andati da Allegri per questa richiesta. Ora, tra l'altro, nell'articolo alla fine si dice che è una questione delicata, in un momento in cui c'è il rinnovo, l'eliminazione col vigliareal, tutta una serie di tensioni, ma soprattutto per Dybala, un po' meno Quadrado. Perché un po' meno Quadrado? Perché un po' meno Quadrado? Quadrado era in campo, quindi Quadrado ha più colpe di Dybala per l'eliminazione col vigliareal, perché Quadrado è stato 90 minuti in campo, Dybala solo 15, innanzitutto questo. Quadrado deve rinnovare come Dybala, quindi Quadrado è sudamericano come Dybala. Sono andati entrambi, era pure capitano in campo contro il vigliareal, quindi perché è una questione che riguarda più Dybala e meno Quadrado? Io non capisco. Allora, già da questo, questo è un ulteriore elemento che capite, che vi fa capire, che è una notizia che è stata fatta a trapellare dalla società. Cioè è una notizia confezionata dalla società. Ma d'altra parte, Luca Bianchin, ma non per lui, il massimo rispetto per Luca Bianchin, per Gazzetta dello Sport, eccetera, hanno fatto il loro lavoro, ma non potevano stare in allenamento. Siamo d'accordo che non erano in allenamento? Luca Bianchin non era in allenamento. E non c'era nessuno di Gazzetta dello Sport in allenamento quando è successo questo. Quindi è chiaro che non sono notizie verificate, cioè toccate con mano, sono riportate da fonti ritenute affidabili. Queste fonti sono interne alla società Juventus. È chiaro questo. È una notizia confezionata dalla società Juventus. E quindi qual è lo scopo? Screditare Dybala. Screditare Dybala. Quando? A due giorni dall'eliminazione col vigliareal, che Allegri sia mai metterlo sul banco degli imputati. Sia mai mettere Allegri sul banco degli imputati. Stiamo scherzando? La Juve è uscita col vigliareal 3-0 ed è colpa di Dybala che è entrato un quarto d'ora con la Juve già in svantaggio. Questa è la narrativa. Quindi due giorni dopo dobbiamo creare un caso su Dybala che lunedì dovrebbe rinnovare, o meglio, dovrebbe incontrarsi, il condizionale è d'obbligo, fino a un minuto prima, visto che l'ultima volta era stato fissato l'incontro e poi è stato annullato a due ore, due ore prima, cioè la mattina per il primo pomeriggio, dovrebbe incontrarsi con il suo agente per il rinnovo. E dopo parliamo anche di questo, con Juventus Salernitana da giocare. Insomma, bisognava creare un caso, bisognava far venire fuori che Dybala ha intemperanze, che Dybala è uno che si permette di andare dall'allenatore a fare delle richieste inaccoglibili, che Dybala è una testa calda, che Dybala rompe lo spogliatoio, che Dybala litiga con l'allenatore. Questo dovevano far venire fuori, per santificare Massimiliano Allegri e per demonizzare Paolo Dybala. È evidente. Una persona minimamente intelligente, minimamente, lo capisce. Non c'è bisogno né di essere dei geni, né di essere giornalisti, né di essere allenatori, calciatori, addette ai lavori, non c'è bisogno. Una persona con un'intelligenza minima, lo capisce perfettamente, che è una notizia confezionata dalla società con uno scopo ben preciso. E, ripeto, nel mezzo escludo da ogni discorso Luca Bianchini, Gazzetta dello Sport, hanno fatto il loro lavoro. Io avrei fatto la stessa cosa. Cioè, nel senso, se hai una notizia o indiscrezione simile, prendila, scrivila, pubblichi. Ci mancherebbe altro. Perché fai parlare... Il lavoro del giornalista è quello di riportare notizie verificabili, notizie attendibili. Quindi il discorso è un altro. Il discorso è come si sta comportando la società, confezionando notizie contro Dybala. Però quadrato no. Quadrato no. No, la colpa è soltanto di Dybala. Senza contare che non si può neanche dire ecco, vedi, Dybala non ha voglia di allenarsi, è andato a chiedere di allenarsi in maniera diversa, di allenarsi meno, di lavorare meno. Perché stiamo parlando di una stagione in cui i giorni di riposo concessi sono stati troppi, ne abbiamo già parlato, soprattutto in certi momenti, troppi uno vicino all'altro. Non singole giornate di riposo che ci può stare, ma uno, due, tre giorni di riposo, uno in seguito all'altro. Quello che è successo per esempio tra Natale e Capodanno. O altre volte in cui, ecco, dopo la sconfitta con l'Atalanta, ricordate, Allegri voleva concedere giorno di riposo, ma i giocatori hanno detto di no. E allora lì però non è stato detto che grande Dybala che vuole allenarsi, che grande Dybala che vuole fare qualcosa in più, vuole lavorare di più. No, viene detto adesso magari che Dybala vuole lavorare di meno. Altro discorso pretestuoso che non ha ragione di esistere. E quindi già questo. Ma poi anche un altro aspetto. Quante indiscrezioni sono mai uscite dallo spogliatoio della Juventus con Allegri? Quest'anno zero, nei cinque anni precedenti zero. Zero, non ce n'è memoria. Perché Bonucci litigò apertamente davanti a tutti. Altri litigi non sono mai stati diffusi. Lo spogliatoio di Cardiff è oltre l'orizzonte degli eventi. È più facile guardare dentro un buco nero che dentro lo spogliatoio di Cardiff. Quindi non è normale neanche questo. Degli allenamenti della Juve non sappiamo nulla. Prima della pubblicazione del video integrale dell'allenamento dell'altra settimana non abbiamo saputo nulla degli allenamenti della Juve. A parte il quarto d'ora ridicolo che ci hanno sempre fatto vedere dell'allenamento iniziale dell'allenamento pre-partita di Champions. Per il resto noi di quello che succede allo spogliatoio non sappiamo nulla. Altri anni invece si sono sapute più cose. L'anno scorso con Pirlo, anche con Sarri. Le cose venivano fuori più facilmente. Com'è che adesso all'improvviso abbiamo questa fuoriuscita di notizie? Perché? Ripeto. Perché la tempistica è quella ed è un tempismo perfetto. Allora stanno facendo terra bruciata attorno a Di Bala ma in maniera meschina. In maniera meschina. Queste sono meschinità. Meschinità. Questi sono comportamenti non so neanche come definirli ma quasi dittatoriali da parte della società. E bisogna dirlo. E bisogna dirlo. Perché bisogna dirlo? Perché noi siamo la Juventus. Io sono la Juventus. Tu, voi, siamo, siete la Juventus. Gente che tifa, ama questa squadra da decenni o da anni o comunque da sempre. Non questi uomini qui. Non questi professionisti qui che sono lì a fare i dirigenti. Loro passano, passeranno e devono passare. Quindi il loro modo di gestire è sempre in discussione. e devono sempre dare conto a noi che siamo la Juventus. E quindi è giusto anche attaccare questo modo di fare se non piace, se non va bene. E non va bene. Perché oggi è Di Bala. Domani chi sarà la vittima? Artur. È quello dei segnali. Il prossimo è Artur. Solo che con Artur hanno meno da dire e da fare. Perché mentre Di Bala ha oltre metà della tifoseria contro e non aspettava altro la tifoseria adesso per trovare il capo espiatorio di un'eliminazione umiliante umiliante che non si allegri purché non si allegri chiunque Di Bala è perfetto in questo momento. E allora stanno facendo terra bruciata. La prossima volta chi sarà? Possiamo fidarci di una dirigenza di una società che fa queste cose. Non volete rinnovare Di Bala. Ma dite che non volete rinnovare Di Bala. Presenta assumetevi la responsabilità. Abbiate il coraggio. Abbiate il coraggio. Siate uomini di andare davanti a una telecamera a dire abbiamo deciso per questi motivi e vi spieghi che Di Bala non resta alla Juve. Assumitevene la responsabilità. Assumetevene tutti la responsabilità. Arriva bene Nedved, Agnelli chiunque chiunque voglia assumersi la responsabilità in nome della società lo faccia. Non vogliamo rinnovare Di Bala. Ci avreste risparmiato mesi mesi di telenovela mesi di cose inutili di nervosismi anche che hanno intaccato la Juve perché Di Bala con quale serenità deve scendere in campo? È stato umiliato tre o quattro volte questa sarà la quinta l'ennesima volta che viene umiliato pubblicamente con quale testa deve scendere in campo? Che sia il Villareal la Salernitano o qualunque altra squadra per fare che cosa? Adesso gli sbattete anche contro che lui litiga con l'allenatore però Quadrado no. Ma capite capite un po' vanno entrambi e la colpa è solo di Di Bala cioè è chiara questa cosa e l'intento è chiaro allora avreste dovuto dire cari dirigenti cara società non vogliamo rinnovare Di Bala basta tanto io sono personalmente sono sereno l'ho detto già tante volte l'ho detto da mesi e da ottobre che vi dico non vi illudete il rinnovo di Di Bala non esiste c'erano i trionfalismi tutti a dire ma Di Bala rinnovato è fatta perché c'era quell'accordo di ottobre io sono stato quasi l'unico a dirvi non vi fidate finché non c'è l'ufficialità il rinnovo di Di Bala non esiste e sono stato pessimista da ottobre sempre ve l'ho sempre detto non rinnova e ve lo confermo è chiaro è evidente non rinnova non rinnova anche perché voglio aggiungere questo elemento poi parliamo appunto dell'incontro di lunedì perché ne è uscita un'altra di notizia ieri sempre su Gazzetta dello Sport e cioè che Di Bala perché si dice che Di Bala non ama la Juve vuole i soldi non vuole rinnovare arriva bene che dice dipende da come si porrà lui Di Bala l'accordo di ottobre l'aveva accettato cioè Di Bala l'aveva accettato c'era un accordo formale non scritto che il contratto sarebbe stato rinnovato a quelle condizioni lì Di Bala ha accettato oltre ad aver rifiutato un sacco di volte squadre straniere che gli offrivano un sacco di soldi e questo lo sappiamo perché ne abbiamo parlato si parlava anche di mercato bloccato per colpa di Di Bala nell'estate 2019 poi ha accettato l'offerta di rinnovo a ottobre quindi non è che Di Bala non vuole stare alla Juve è la Juve che non vuole tenere Di Bala e adesso infatti l'altra cosa pretestuosa totalmente pretestuosa altra meschinità altra meschinità e ripeto se voi vi fidate di gente che si comporta in questo modo evidentemente siete abituati a farvela con gente di basso livello cioè problemi vostri io non mi fido di queste persone non mi fiderei mai di persone che si comportano in questo modo l'altra meschinità è che c'è l'incontro lunedì però la Juve avrebbe detto a Di Bala non ti presentare con Antun perché non è qualificato come procuratore UEFA ma scusate era stato raggiunto l'accordo a ottobre non firmato perché Antun non era procuratore a gennaio Antun è diventato procuratore UEFA FIFA quello che serve e adesso non è abilitato non è titolato non lo vogliamo e dipende da come si porrà Di Bala arriva bene ha il coraggio di dire che il rinnovo dipende da come si porrà Di Bala ma se non gli fate neanche non lo fate neanche sedere non lo fate neanche sedere l'altra volta vi dovevate incontrare ed è stato rinviato poi è stato rinviato un'altra volta poi non è stata fissata la data adesso è stata fissata in lunedì salvo imprevisti salvo inderogabili impegni personali di arriva bene che poi dice non è vero che sono scappato avevo inderogabili impegni personali li fissavi a un altro orario gli impegni personali inderogabili oppure se ce li avevi non fissavi l'appuntamento quindi può succedere ancora di tutto ma seppure si incontreranno c'è già questa grana c'è già questo impedimento come fai a formalizzare è un incontro che serve a formalizzare l'offerta della società ma cosa la presentano a fare cosa la formalizzano a fare che offerta è 70 euro all'anno cosa gli vogliono dare se non lo so cioè di cosa stiamo parlando e poi ascoltiamo che per esempio e ne parlo a parte Rudiger che va per i 30 alla fine come Di Bala 93 entrambi anche se Di Bala è novembre e Rudiger è marzo si beccherà 7 milioni netti che viene a firmare a parametro zero cioè i soldi ce li hai o non ce li hai fammi capire no vabbè però Rudiger è un difensore e poi tutte le solite scuse bla 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 ragazzi cioè una cosa è chiara non vogliono rinnovare il contratto a Paolo Di Bala non l'hanno mai voluto rinnovare non l'hanno mai voluto rinnovare ma non hanno il coraggio di dirlo ma dico ma io ma qual è il problema ripeto più di metà più di mezza difoseria è contro Di Bala allora non rischiate nulla a dire noi non vogliamo Paolo Di Bala ditelo chiaramente e argomentate abbiate il coraggio di dire quali sono i motivi anche tecnici anche economici finanziari da tutti i punti di vista per cui non volete rinnovare il contratto a Di Bala assumetevene la responsabilità quindi siamo veramente nelle mani di personaggi che non meritano che non meritano assolutamente di guidare la gloriosa Juventus che siamo noi non dimenticate che la Juve siamo noi ogni tifoso è al di sopra di Andrea Agnelli perché c'è la Juve ci sono i suoi tifosi e poi ci sono i dirigenti e tutti quanti gli altri giocatori organigramma i tifosi sono prima perché siamo legati alla storia di questo club quindi non fate questa confusione sono personaggi che non meritano di dirigere la Juventus e allora dobbiamo sperare che magari dopo Di Bala perché tanto Di Bala ormai se ne va se ne vadano anche loro grazie per la vostra attenzione tema caldo caldissimo quindi mi aspetto un dibattito acceso anche se vi raccomando sempre di mantenere il rispetto e la calma anche nei confronti della dirigenza della Juventus che naturalmente non ho nessuna intenzione di denigrare sto criticando la tifosa le loro scelte ed è giusto e legittimo farlo mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a questo canale se volete sfruttare ulteriori vantaggi vi bastano 99 centesimi al mese per avere per esempio l'accesso riservato alle chat extra sul mio server Discord e la programmazione in andeprima con orari e argomenti dei nuovi video in uscita ci vediamo molto presto e sempre forza Juve